Sei spettacoli per un programma assolutamente da non perdere con grandi attori e artisti nazionali che saranno Ragusa Ibla per il pubblico del Teatro Donna Fugata. La nuova stagione teatrale 2016-2017 al Teatro di Ragusa Ibla parte già con un sold out e con un'accurata programmazione teatrale selezionata dalle direttrici artistiche Vicky e Costanza di Quattro con il coordinamento di Clorinda Arezzo. Gli appuntamenti spazieranno dalla commedia al dramma passando per il nuore non solo. Spettacoli per ridere, divertirsi ed emozionarsi che sono stati presentati ieri in conferenza stampa al Comune di Ragusa alla presenza delle organizzatrici e del vice sindaco del Comune e assessore agli spettacoli Massimo Iannucci. Il Comune è orgoglioso di partecipare e di contribuire a questa stagione teatrale perché d'altro canto il Comune non ha le risorse né umane per poter organizzare una cosa del genere. Noi abbiamo accolto con favore la proposta dell'Associazione del Teatro Donna Fugata con le sorelle Vicky e Costanza di Quattro e colori indarezzo che sono professionisti del settore che hanno stipulato una stagione che va da novembre ad aprile con dei nomi, avete visto, di tutto rispetto. Stagione Teatro Donna Fugata 2016-2017. Siamo molto orgogliosi di poter portare avanti questo cartellone. È un cartellone ricco, sei spettacoli in doppia replica. Cominciamo con Giobbe Covatta che porterà questo omaggio alla Divina Commedia e non solo ai diritti dei minori che vanno sempre tutelati. Seguirà Tullio Solenghi con questo omaggio invece all'Odissea. E Ciufoli che porterà un gioco antropologico di personaggi e di sfilate dei vari tipi di persone diverse. Poi ci sarà un omaggio al grande maestro del cinema Hitchcock, uno spettacolo dedicato al Dracula di Bram Stoker e infine uno spettacolo che sarà un omaggio alla buona novella di De Andrè. Verrà invitato anche l'attore o gli attori a partecipare a questa sorta di apericena che è offerta dalla pasticceria di Pasquale in teatro. Per tutto il periodo della stagione si succederanno diverse mostre nei foie del teatro. Sono già mostre che abbiamo pianificato e saranno anche quello un momento per poter apprezzare l'arte. Quest'anno la stagione del Teatro Donna Fugata 2016-2017 ha registrato anche un fenomeno che si accosta come novità rispetto agli altri anni. È un'apertura alla città e al settore turistico anche della città perché abbiamo notato che molti degli abbonamenti che sono stati venduti sono stati inseriti in dei pacchetti turistici da rivolgere all'esterno. Quindi è una città che è maturata un po' anche nel settore turistico e ha imparato a utilizzare le risorse culturali della propria città. E quindi per quanto piccolo possa essere effettivamente il bacino d'utenza del Teatro Donna Fugata in questo modo offre anche una certa mobilità anche di utenti e viene rivolto anche a un bacino d'utenza che possa essere esterno rispetto alla singola città di Ragusa. La stagione che prenderà il via già dalla prossima settimana grazie al ricchissimo calendario di appuntamenti di rilievo si prospetta già un successo. Grazie a tutti.